Le organizzazioni sindacali CGL e CISREWILL hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori delle cooperative SATIC e servizi turistici sul Mona che vedranno al 30 novembre cessare il loro appalto con il comune. Sono interessati i servizi turistici e museali di sorveglianza, informatici ed elaborazione dati, di front office, back office e di assistenza tecnica. Forte è la preoccupazione dovuta ad una totale assenza di garanzie in termini di occupazione per i 34 lavoratori interessati e di mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini e quanto affermano Damiano Verrocchi della CGL, Davide Frigelli della CISREWILL e Nicola Ceri della Will. In data odierna è stata inoltrata formale richiesta al prefetto dell'Aquila di avvio delle procedure amministrative di conciliazione. Drammatica è anche la situazione degli ex LSU. È saltato l'incontro di questa mattina in municipio tra l'amministrazione comunale e i lavoratori. Il sindaco Peppino Ranalli ha fatto sapere di aver avuto alcuni contrattempi che lo hanno costretto a rinviare l'incontro che è stato fissato adesso a mercoledì prossimo alle 16. A comunicarlo ai lavoratori è stato il vice sindaco Luciano Marinucci. Delusione è stata espressa dai lavoratori che hanno anche criticato i sindacati di essere stati latitanti dall'inizio. Non riusciamo a capire il perché hanno spiegato i lavoratori che attendono ora risposte positive dall'incontro della prossima settimana. Chiedono certezze sull'aumento delle ore lavorative rispetto alle attuali 20 settimanali. Nel precedente incontro avevano ottenuto dal primo cittadino la risposta che non ci sono fondi in bilancio ma anche la disponibilità a verificare la possibilità di procedere ad una turnazione con altri lavoratori in mobilità. Andrà trovata una soluzione urgente in quanto il 31 dicembre scadranno i contratti di lavoro.